Senza zaino verso nuovi paesaggi di apprendimento. Questo il tema al centro dell'incontro tenutosi questa mattina nell'aula magna del preso Sauro dell'istituto comprensivo Sauro Morelli. Testimonianze e documentazioni di un'esperienza che mette l'accento sull'organizzazione dell'ambiente formativo, un'occasione per illustrare questo modello educativo a tutta la comunità scolastica. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato la dirigente scolastica Lucia Di Lorenzi e Paola Carnevale, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Eugenio Montale di Napoli, già scuola Senza zaino dal 2017. Il progetto Senza zaino è un progetto che la scuola ha cominciato quest'anno di formazione innanzitutto dei docenti, perché Senza zaino è un modello educativo che si è diffuso in Italia già da una ventina d'anni. Abbiamo incontrato la comunità scolastica per raccontare l'esperienza di quest'anno, per illustrare alla comunità, ai genitori in particolare, in che cosa consiste questo modello Senza zaino. Si basa su tre punti fondamentali che sono comunità, ospitalità, responsabilità. Ripeto, è un modello che cura molto il setting educativo, cioè l'organizzazione proprio logistica della classe non lascia nulla al caso. Parte dalla Toscana, ideata dal Marco Orsi, che era un dirigente scolastico, partito con la giornata della responsabilità, nel senso di responsabilizzare gli alunni, perché questo è uno dei concetti cardine di scuola Senza zaino. Gli alunni sono responsabili nell'aula dei materiali, dell'organizzazione, quindi partecipano attivamente all'andamento della lezione. Questo modello cerca soprattutto di contrastare una scuola dove gli alunni sono passivi e soprattutto li rende responsabili di tutto quello che nell'aula c'è. Le scuole hanno avuto dei finanziamenti col PNRR, dove nelle aule appunto si trasformano in laboratori, soprattutto con molte attrezzature digitali, con arredamenti più innovativi. Quindi secondo me Senza zaino fornisce il modello pedagogico per affrontare anche il PNRR che vuole che le aule diventano degli ambienti di apprendimento. Abbiamo iniziato nel 2016-2017 per un'esperienza, un'esigenza nata dal basso, cioè quella di fornire ai bambini e ai genitori del contesto in cui la scuola opera, il contesto di Scampia, un'opportunità di autonomia e soprattutto di comunità. Cioè, vedete, ma a un certo punto ci siamo resi conto che diventava sempre più difficile stare in classe e rispondere alle esigenze anche individuali dei bambini. Ci siamo messi in gioco con una sperimentazione iniziale, abbiamo iniziato dalle classi terze di scuola primaria e abbiamo iniziato questa scuola comunitaria che spingeva tantissimo verso il senso di autonomia e di responsabilità dei bambini. Sembrava un'esperienza difficile, invece è riuscita anche grazie alla formazione che abbiamo fatto del Senso Zaino, tanto che poi lentamente l'esperienza è passata a tutte le altre classi di scuola primaria, la scuola dell'infanzia e da direzione didattica siamo diventati seduto comprensivo per portare avanti comunque il percorso con i bambini che già appartenevano al nostro contesto. Vedete, qual è l'esperienza più bella o quali sono i punti di riferimento secondo me iniziali più belli? Quelli di una scuola comunità, non è una scuola gerarchica, è una scuola in cui ci si confronta di continuo dove i genitori fanno parte anche del nostro percorso e dove i bambini imparano fin dall'infanzia l'autonomia e il senso di responsabilità. Io sento di consigliarla ai genitori, alle mamme, alle altri istituti, agli altri contesti affinché la scuola possa veramente diventare parte del territorio e parte della società.